spettacolo troppe nuvole sotto al creton d'umidi passiamo avanti al gran creton la buona lè che spunta la gran rocher mezza val d'aosta sotto c'è alpinisti che salgono a costa serena la buona lè qui si 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 Variante alternativa alla Gita E il Gran Comben è ancora dietro al piattolo del verano Grazie a tutti Beh, direi che le Giorasse si vedono Sì, quello lì è con Benelbelan Cervino Dove il terreno si fa più tecnico Passa dal comando Accio 88 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti